In 30 comuni dell'Alto Adige è in atto un progressivo calo della popolazione, colpiti soprattutto i piccoli comuni montani, ma il fenomeno riguarda anche i centri più grandi come Ortisei, Dobbiaco e Termeno. 30 comuni dell'Alto Adige sono a rischio spopolamento, dati poco incoraggianti, quelli comunicati dalla Camera di Commercio che si è basata sui rilevamenti effettuati dall'IRE, l'Istituto di Ricerca Economica. Se è vero che per i prossimi dieci anni in provincia di Bolzano è previsto un aumento della popolazione pari al 7%, è altrettanto vero che in circa un terzo dei 116 comuni altotesini è in atto un calo dei residenti, con la Val Venosta che risulta la zona più colpita. La maggior parte dei comuni interessati sono di piccole dimensioni, ma non ne mancano di più grossi come Ortisei, Dobbiaco e Termeno. Un'indagine che preoccupa, ma solo fino a un certo punto, il presidente della provincia, Luis Durmaler. Sarebbe normale se si trattasse solo di Predoi o se si trattasse solo di Brennero o Curon, dove fino adesso erano molti dipendenti dalle dogane, dalla polizia eccetera. Adesso a causa di Schengen non abbiamo più di questo fabbisogno. Però loro citano anche i comuni come Termeno, come Corvara, come Ortisei, come Selva Gardena o come Barbiano o Dobbiaco eccetera. Lei può immaginarsi che questi sono comuni forti dove abbiamo avuto un grande aumento di popolazione gli ultimi anni. Adesso dire che lì c'è il pericolo della riduzione della popolazione, qualcuno ha parlato già nei giornali di spopolamento. Allora dobbiamo stare molto attenti, perciò abbiamo detto che la settimana prossima vogliamo parlare con i relatori della Camera di Commercio per vedere per quale motivo loro sono arrivati a questi risultati.